Il prossimo incontro non sarà esattamente con me, vedo che c'è Giulia, quindi io ti chiamerei Giulia, ti vorrei qui perché facciamo un po' di promo del prossimo incontro. Il prossimo incontro sarà con Carlo Piano e Giulia Marchetti, dico solo questo poi ti lascio il microfono così puoi un po' avvincere chi c'è ma sicuramente avrete una risposta importante per il vostro colloquio, per quello che si pronuncia e per il libro. Il libro si intitola Il Torto ed è una true story, cioè una storia vera, cosa che oggi amiamo sempre dire per creare appilla quando si parla di un film o di un romanzo, perché racconta la vicenda di Donato Pilancia, è il più terribile serial killer della storia del crimine italiana, a cui è stato dedicato anche una docu-serie che io ho divorato per l'interesse, perché poi durante certe storie prescindi dal male effettivamente effettuato e ti appassioni alla vicenda. Grazie Giuseppe, tra l'altro un po' di programma, non ero preparata in questo passaggio di staffetta ma che ovviamente approfitto con molto piacere. Un romanzo, come si può parlare di un libro che in realtà trae spunto da cronache, di un delitto che poi diventa il secondo, il terzo, fino a diventare 17 in soli sei mesi, chiamare un libro un romanzo? Beh, nella realtà è tutto vero, ma come è scritto è veramente un romanzo, perché si muove attraverso uno stile narrativo in cui ci sono più piani narrativi, in cui c'è una voce che parla, è lo stesso criminale che parla, ma lo stesso autore che si confronta con il criminale. Pertanto una lettura leggera, se di leggero si può parlare quando si legge di delitti e di questioni che riguardano noi, la nostra Italia, il nostro vissuto. Ne parleremo con l'autore, grande giornalista, grande abilità di scrittura e grande coinvolgimento, perché lui stesso ha vissuto, attraverso l'incontro personale che ha avuto con il serial killer, qualcosa che è rimasto un po' relegato dentro di sé, nella sua anima, un po' rimosso nel tempo, ma che poi come un rigurgito si è ripresentato quando il serial killer è morto a causa del covid, quando non ha voluto neanche le cure. E qui ha sentito questa esigenza in realtà di tirar fuori quello che era latente dentro di sé e di riproporlo quasi come una forma di autoliberazione, per esorcizzare quello che era presente dentro di me e che avevo vissuto. Ora lo ha depositato in un libro e ce ne fa dono, perché io più che altro mi sento veramente di consigliare a tutti questa lettura, perché riguarda la nostra vita, la nostra società. Purtroppo molto spesso noi non siamo consapevoli di vivere in un luogo in cui persone, pur apparentemente normalissime, vivono una condizione interiore insospettabilissima, che può essere un rischio per noi, per i nostri cari. Come prendere un treno in prima classe e fare un viaggio, magari anche costitudinario nella nostra vita, può rappresentare invece un appuntamento con la morte. Beh, a me ha veramente scosso questo libro e sono felice che Carlo Piano ha avuto questa necessità, in un certo senso, di mettere tutto dentro, perché poi ce lo ha donato a noi con questa opera. Pertanto noi ne parleremo con l'autore, vi invito tutti ad essere presenti, perché poi avrete tutti voi un libro per poterlo leggere. E all'interno, e non lo dirò mai, c'è qualcosa che a me a un certo punto, quando è arrivato, ho detto, beh, questo non me lo aspettavo davvero. Lo leggerete, lo scoprirete, ma non ve lo diremo noi, lo vedrete voi, lo scoprirete nel libro. Grazie a tutti, buonasera. Tre righe, mentre...